Non solo europee, perché al voto ieri si è deciso anche per eleggere il presidente della regione Piemonte e i sindaci di 3.779 comuni. Di questi, 3.654 nelle regioni a statuto ordinario, con 5 comuni capoluogo di regione, Firenze, Bari, Perugia, Potenza, Campobasso, e 20 comuni capoluogo di provincia, 118 comuni in Friuli, Venezia e Giulia e 7 in Trentino Alto Adige. Dai risultati ancora parziali in Piemonte, con circa un terzo delle sezioni scrutinate, si è ridotto l'iniziale testa a testa, con oltre il 48% delle preferenze ad Alberto Cirio, candidato di una coalizione di centrodestra guidata da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, mentre ha ammesso la sconfitta il governatore uscente Camparino. Tre capoluoghi di regione, i primissimi dati, seppur molto parziali. A Firenze, verso la riconferma, Dario Nardella, del Partito Democratico e liste civiche, contro il candidato del centrodestra, Ubaldo Bocci. Anche a Bari passerebbe il centrosinistra, con Antonio De Caro, oltre il 56%, contro Pasquale Dirella, centrodestra, 33,18%. Perugia andrebbe a Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, con Andrea Romizzi, insieme con la sua lista civica, quasi il 60%. E intanto, nell'Alta Erpinia, Ciriaco De Mita riconquista il suo comune di nascita, Nusco. Il dato non è ancora definitivo, ma se così fosse, il sorpasso è avvenuto all'età di 91 anni.